ciao amici di tiro e ricarica western sono bruce miller e benvenuti a questo nuovo episodio oggi vedremo come sverniciare le tipiche guancette rossastre di uberti e pietta e riverniciarle del colore che vogliamo in questo caso un color noce vediamo di cosa abbiamo bisogno ecco di cosa abbiamo bisogno paio di guanti di gomma da usare tutto il tempo che maneggeremo sverniciatore e vernici varie poi tampone su cui impregnare i nostri agenti chimici poi sverniciatore va bene di qualsiasi marca poi impregnante io uso ammon questo qui è il colore noce poi olio di lino cotto per rifinire la nostra guancetta poi cacciavite per smontare la nostra single action army solo questa parte per liberare la guancetta vi ricordate come avevamo fatto l'ultima volta date a vedervelo se non avete visto poi la metta per tagliarvi le vene no scherzo la metta per raschiare via la vernice quando verrà via e battuffolo di cotone per rifinirci sopra l'olio alla fine paglietta per ulteriormente rifinirla e tanta pazienza ecco quello sì tanta pazienza ok mettiamoci all'opera ora smontiamo la fascetta posteriore per riuscire a tirar fuori la nostra guancetta che andremo poi a sverniciare e poi ritingere del nostro colore di gradimento ricordate il video di smontaggio completo dell'arma ecco vi consiglio di andarlo a rivedere per vedere il video completo comunque vi uscirà scritto consigliato qua sopra il video come sempre ci accertiamo che la pistola sia scarica quindi mezza monta apriamo un serbatoio e vediamo che non ha bossoli o cartucce a suo interno quindi è sicura quindi ne mettiamo e la giriamo e con il nostro cacciavite cominciamo ad allentare leggermente la vite posta sotto la guardia ok poi la rigiriamo e allentiamo queste due viti una mettiamo qui da parte una e uno due e adesso svitiamo completamente questa ok ecco qua ecco qua che viene via e sfiliamo dalla sua fascetta la guancetta eccola qua nel frattempo rimontato la fascetta sul castello dell'arma di modo da non avere pezzi in giro così la possiamo riporre in sicurezza nella nostra cassaforte mentre quindi andiamo a riporla mentre nel frattempo ora andremo a lavorare sulla guancetta il nostro obiettivo è sverniciarla rendendola così quel sverniciatore apriamo prendiamo un tampone con del panno si può usare anche un pennello e andiamo a applicarla andiamo a applicarla sulla nostra guancetta in questo modo semplicemente di un generoso quantitativo di sverniciatore non dimentichiamoci anche la parte qua sotto consiglio inoltre di munirvi di un pezzo di fil di ferro semplicemente per da utilizzare per da utilizzare per diciamo bloccare la nostra fascetta mentre l'andremo ad appendere o in cantina in garage o di fuori in questo modo il consiglio quindi col fil di ferro di modo da tenerla appesa di modo da lasciare agire al meglio lasciare agire il nostro sverniciatore ok quindi lasciamo aspettare un 20 minuti 30 20 30 minuti e vediamo poi dopo cosa succederà più di mezz'ora è passata ed ecco qua la nostra guancetta come potete vedere la vernice ha cominciato a sfogliarsi da sé ora con una paglietta la andiamo a togliere definitivamente lo strato di ok nel frattempo ho rimosso mettendo in pausa la prima parte della guancetta l'ho rimossa tutta completamente ho usato sia della paglietta della lama del cutter per raschiarla via prestando attenzione non segnare il legno e ho usato anche questa punta di cacciavite per raschiarlo via ok ora rimuoviamo del tutto in camera la parte rimanente quindi adesso con la nostra punta del cacciavite e alternandoci anche con la lama del cutter andiamo a raschiare via prestando attenzione a non segnare la guancciola la vernice rimanente che sta piano piano venendo via ecco qua vedete è un lavoro lungo di pazienza munitevi di pazienza con calma un lavoro di precisione e bisogna stare attenti a non segnare la guancciola ecco vedete così gli youtuber seri adesso velocezzerò l'operazione e Bene, nel frattempo sono andato avanti a scrostare tutta la nostra guancetta, quindi ho rimosso completamente la vernice rossa stando attento a non rimuovere il materiale e a rifinirla con la paglietta, è di nuovo liscia è di nuovo liscia, ora, dunque, dopo aver prestato con attenzione a svernicciare, sono andato avanti a farlo mettendo la camera in pausa perché è veramente un processo lungo e minuzioso, il video verrebbe veramente lungo, ora prendiamo il nostro impregnante e andiamo a tingerla del colore che desideriamo, in questo caso io utilizzerò del colore noce Ok, per aver agitato la nostra lattina, averla aperta, in questo caso utilizzo Ammon color noce, un impregnante con cui mi trovo molto bene, tempo di prendere il nostro tampone e cominciare a dargli una mano di impregnante è un impregnante da tirare molto ecco qua, ecco la prima mano ora lasciamo riposare per qualche ora e andiamo a vedere il nostro risultato finale bene, l'impregnante si è asciugato, è tempo ora di darci una mano di olio di lino cotto prendiamo il nostro battuffolo di cotone, sempre muniti di guanti e andiamo ad applicare una mano di olio di lino cotto appendiamo la nostra guancetta e lasciamo asciugare per qualche ora e poi siamo pronti per rimontarlo sulla nostra pistola bene, l'olio di lino si è asciugato sulla nostra guancetta ho aspettato qualche giorno e ho dato altre mani la nostra superficie è bella liscia e abbiamo ottenuto un bel colore marrone scuro questa è una guancetta particolare che ha tutta questa serie di venature e sinceramente a me la finitura rossa sebbene dicono che sia quella originale dell'epoca a me sinceramente non piace in effetti ho ricercato e ho visto che alcuni modelli dell'epoca come modelli ad avancarica avevano una finitura rossa ma degustibus non è disputando sinceramente come amante del fai da te mi piace anche dilettarmi con il legno mi sono dilettato in questo piccolo progetto e ho voluto condividerlo con voi ok, dunque avendo rifinito la nostra guancetta non ci resta che montarla sulla nostra single action army qui prendiamo la nostra fascetta backstrap in inglese tradotta in italiano in fascetta fascetta posteriore la andiamo a infilare qua sopra e prendiamo il nostro revolver e come sempre, come abbiamo smontato all'inizio oppure come abbiamo visto nel video precedente su come smontare la nostra single action army la rigiriamo puntiamo qui dietro abbiamo il nostro cacciavite con la nostra punta apposita sempre stando attenti a non segnare nulla e diamo una puntata a questa vite poi la rigiriamo e affranchiamo le due poste qui davanti ora la rigiriamo e tiriamo l'ultima vite posta qua sotto e siamo pronti qua la nostra guancetta che è stata sverniciata e adesso l'abbiamo riverniciata a color noce e l'abbiamo rimontata sulla nostra single action army vi ricordate com'era prima? andiamo a darci un occhio e come adesso è ora? eh sì, ci vuole un po' di tempo ecco qua la nostra guancetta che abbiamo sverniciato e riverniciato con l'impregnante e applicato il nostro strato di olio di lino cotto ecco qua il nostro risultato finale spero che si veda purtroppo tenere tutto in focus in luce eccetera eccetera è un casino bene dunque volevo ringraziare i ragazzi del colorificio di Vado che sono stati gentili e disponibili con me e gli ho parlato di questo progetto e avrevo promesso di menzionarli nel video quindi ciao ragazzi vi invito a chi non è iscritto al canale e iscrivervi uscirà scritto qua tutti gli altri fatemi sapere cosa ne pensate ringrazio Christian che mi commenta sempre scherzosamente quindi grazie sono Bruce Miller e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti